Vincent Orza, giornalista, docente universitario, imprenditore con interessi nell'informazione televisiva e nella ristorazione negli Stati Uniti, è da ieri cittadino onorario di Sarno. Lo ha deciso il Consiglio Comunale della città da dove il nonno Carmine, ad inizio secolo, partì per cercare fortuna negli States. Orza è stato anche governatore dello Stato dell'Oklahoma. Il mayor mi ha fatto un grande onore per lui, soprattutto perché quasi cento anni fa i suoi avi vivevano qui ed è rimasto sempre nel suo cuore. E' stato molto bello per lui che anche la moglie e sua figlia venissero qui per conoscere le radici della sua famiglia. Ed è stato molto bello che gli venissero incontro il signor sindaco e lo accogliessero anche tutti gli altri. Per noi oggi è un onore riconoscergli la cittadinanza onoraria perché sul sottile filo della memoria ricostruiamo un percorso che è anche un percorso culturale, ma un percorso di tradizione, un percorso anche di sacrifici. Ma il Consiglio Comunale ieri sera ha anche dato il via libera ad una serie di provvedimenti, tra cui la delega all'Agenzia delle Entrate per la riscossione coattiva dei tributi locali, anche minori, delle contravvenzioni al codice della strada e delle sanzioni amministrative derivanti da leggi speciali ed ancora l'affidamento della gestione dell'impianto della pubblica illuminazione ed interventi di efficacia energetica. L'Assemblea ha anche approvato l'adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti con l'approvazione del regolamento, così come dei debiti fuori bilancio. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, per la prima volta viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale un nuovo modello di gestione della stessa che ci consentirà, credo che andrà a buon fine, di ammodernare l'intero impianto di pubblica illuminazione sul territorio che è dispersivo, obsoleto ed è sotto gli occhi di tutti che ovviamente è fatiscente. Ci ritroviamo con una pianta di illuminazione vetusta e in molti casi pericolosa, in quanto molte delle lampade che oggi vengono usate a Sarno sono fatte ancora di mercurio, quindi con tutte le negatività che da questa può scaturire, sia a livello ambientale, di salute, ma soprattutto anche a livello economico. Si va verso una possibilità di dare ai cittadini una sorta, tra virgolette, di sgravio fiscale rispetto alle cartelle sattoriali che sono arrivate, per cui vediamo se tutto procede nel pensiero che oggi abbiamo, cioè di essere disponibili a dare una serie di provvedimenti utili ai nostri cittadini.